Buongiorno. Buongiorno. Ciao, mi chiamo Giovanni. Mi chiamo Anna. Maria Francesca. Giuseppe. Mi chiamo Giuliano. Sara. Mi chiamo Valeria Rebecchi. Mona. Mi chiamo Eleonora. Com'è San Felice oggi? Oggi in questo giorno è profumata soprattutto, vabbè, perché è la festa dei fiori. Buongiorno. È un bel clima. Beh, oggi sicuramente San Felice è una città in fiore. I fiori mi piacciono. Oggi in giro ci sono un po' tutti, bambini, giovani, famiglie e i negozianti in strada che ti accoglono. È una festa di fiori. Oggi sono felice, la vedo molto gioiosa e molto, molto bellissima. Mi sono piaciute appunto molto i colori, i fiori accesi che ricordano la primavera. L'ho vista vestita finalmente di un vestito nuovo, di un vestito pieno. Hanno la speranza di poter vedere il loro paese appunto rifiorire. Quanti sorrisi ho visto. C'è un bel clima, cioè si sta bene. È appena piovuto, una settimana che piove, oggi c'è un sole bellissimo, veramente bella. Oggi San Felice mi ha sorpreso. Più che i fiori sono i colori e la gente che fanno bene queste strade. Quello che è da mangiare. Prova a chiudere gli occhi e immagina San Felice domani. San Felice domani la vedo, spero, migliore di questi ultimi due o tre anni. La vedrei come oggi, perché sinceramente come l'ho vista oggi non l'ho vista mai. Domani San Felice la vedo rifiorita. Che trasmette più appunto felicità. La vorrei sempre più... Un giorno come oggi, cioè, dove ci siamo. Sì, più non... Io mi sento fiduciosa e speranzosa. Spererei mille giorni come questi. La vista nuova, diversa. È un'ottima possibilità di star con il suo San Felice. Abbiamo il suo splendore di un'america. Penso di vedere un San Felice con un bellissimo castello, una bellissima piazza popolata di gente. Si è proprio tolta tutta quell'aurea triste e malinconica che le aveva lasciato appunto il terremoto del 2012. Lei è un'attima spazio. Da, c'è il mio cos'è. Era un'attima piazza a tutti. Come un'attima piazza a tutti. Non è possibile? No, non è possibile? In me un'attima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.